Frequentano l'Accademia per quattro anni, da qui l'idea di essere quattro. Il genere proposto dagli Allopets è innovativo, fatto di sonorità assai sonore e di canti abbastanza cantati. Terzo anno qui a Castenedolo, è vero. Questo è il loro concerto numero 38, a solo due settimane dal concerto fatto a Parma, dove tra l'altro, così mi hanno scritto, hanno spaccato di brutto. Non sappiamo cosa. Io direi che dopo questa presentazione ci aspetta veramente Bionni ascoltando gli Allopets. Li presentiamo alla voce Plin Evoldi. È un tuo soprannome? Sì. Il nome è vero? Alessandro. Alessandro, la voce Alessandro. Posso dire una cosa? Perché ormai sono tre anni che veniamo qua, la ringrazio per tutto, però mi sembra... è una dismetta di darle del lei, secondo me dopo tre anni. Se potrai darle del tu, posso? Certo che posso. Che cosa? Che gag. Puoi darmi il tonno, figlio, perché? Perché mi scappa la gag. Va bene, sormoniamo su questa cosa. Vabbè. Mangialo te. Vai avanti alla zia che forse è meglio, te lo assicuro. Lo mangerò sicuramente. Al basso, Nicola... No, ho sbagliato. Buonissimo. Chia Nicola. Vi torno a chiama con la ringrazio. Sei all'allopera. Alla chitarra, Robi. Al basso, Andrea. E alla batteria, Jordi. Io direi che sei all'allopera e sono pronti. Speriamo che non spacchiate tutto anche da Dune a Dune. Anche perché se no Parco Giovani mi sa che spacca a voi. Però vabbè. Ciao Maurizio. Appunto. Lasciamo il parco. Signori e signori, yalla a te. Dai, vai, fai più applausi, che non sento non è la cosa. Non posso farci.